Ben tornati da Paolo Corazzona a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì e tra l'altro vi suggerisco anch'io di scaricare la nostra app per smartphone e tablet, lì così sarete aggiornati ora per ora su eventuali cambiamenti del tempo. Ma andiamo a vedere allora la situazione prevista per venerdì con tempo buono in gran parte d'Italia ma guardate si avvicina un nuovo peggioramento sulle regioni di nord ovest. Tra poco entreremo nel dettaglio come sempre un'occhiata per ora alle temperature, iniziamo a andare in minime notturne previste in lieve aumento, arriviamo a superare i 20 gradi in alcune località soprattutto del centro sud. E le massime iniziano a toccare valori elevati sempre nelle regioni centro-meridionali con punte ben oltre 30 gradi soprattutto sul versante tirenico e sulle isole maggiori. Ma entriamo ora nel dettaglio, cominciamo dal nord Italia dove la giornata inizialmente sarà buona però come vedete ecco arrivare nuove piogge, nuovi acquazzoni nella seconda parte del giorno a cominciare da Val d'Aosta, Piemonte, Ponente e Ligure ma entro sera queste piogge raggiungeranno anche la Lombardia e l'Emilia. Nell'Italia centrale situazione buona con ampie zone di serena in tutte le regioni, qua ormai è estate piena, solo verso sera qualche nuvola in più arriverà sull'Alta Toscana. Infine Italia meridionale con bel tempo, alta pressione, sole in tutte le regioni e per tutta la giornata anche nelle isole maggiori, condizione ottimale. tra l'altro anche con venti deboli ma ricalmi o poco mossi.